In Napoli si proietta la sfida contro l'Empoli in programma questo pomeriggio. Le attenzioni sono dedicate al futuro del club con tantissimi rumors che danno sempre più vicino Antonio Conte alla panchina azzurra. Ma prima di parlare di mercato, di futuro e di panchine è giusto dedicare attenzioni a una delicata sfida per il Napoli che non può assolutamente essere steccata. La squadra di Calzona deve centrare l'Europa, la Champions è difficile se non impossibile ma con i risultati a favore è lecito sognare. Non ci sono particolari novità dall'allenamento di rifinitura svolto da Napoli. Olivera ha svolto un lavoro differenziato diviso tra palestra e campo. Non ci sarà oggi pomeriggio con il tecnico e ha dovuto ridisegnare parte della linea difensiva. Come già detto Meret sarà a difesa da Mazzocchi posizionato sulla sinistra con Di Lorenza a destra. Al centro Wajiesus è Ostigard. A centrocampo Zvielischi, Lobot e Kengisaurano il compito di dettare i tempi di gioco e di creare varchi nella difesa avversaria. A supporto del tridente composto dai soliti Kuvara, Politano e Osimen che guiderà l'attacco. Intanto però a Napoli si pensa al futuro. De Laurentiis sta ancora considerando Antonio Conte ma sta esplorando anche altre opzioni. Il gioco delle sedie per le prossime panchine della Serie A è iniziato. E il proprietario del Napoli non si accontenterà di scelte di seconda categoria. Conte è il suo obiettivo principale ma Pioli e Gasperini e Italiano non sono considerati semplici alternative. Altre possibilità vengono discusse dal possibile coinvolgimento di Calzona fino al potenziale interesse per il giovane Palladino ma sono solo speculazioni per ora. Il presidente Napoli vuol portare l'ex CT della Nazione Italiana alla guida della squadra e lo sta corteggiando da tempo anche se non è fissato un solo candidato.